Venito a Urgu! Quello normale, perché vedo qualche po' così, lui è quello normale. Ma capita. Volevo raccontare una barzelletta così. C'era una volta un bambino, che disse alla mamma? Ma mamma, perché non mi compro una serellina per giocare? Sono sempre solo. Figlio mio, per fare i bambini ci vuole tempo, bisogna parlare con babbo, bisogna programmarlo, poi coi tempi che corrono, le cose costano cari, senti i tempi correndo, li senti. Dai, compramelo. Ti ho detto che non fa. Te l'avevo promessa, però non fai, quando è breve, solo mamma ti sbacchi a terra. Cos'è questa maleducanza? Me l'avevi promessa. Te me l'avevo promessa, però non fa. E poi la cicogna ha detto che non le porta più. E allora cambia uccello.